Ciao a tutti ragazzi, sono FNTSMN e come vedete siamo tornati su Evoland per la seconda puntata Ho letto i vostri commenti, ho visto che un po' vi interessa, ho visto che alcuni hanno suggerito di abbassare l'audio e l'ho abbassato, e niente adesso continuiamo, adesso vediamo un po' dove eravamo rimasti, eravamo qui, ah c'è un tesoro, non puoi parlare con i bambini, simpatico, vediamo cosa dobbiamo fare, tu, qua non posso andare, no, qua mi blocco, da cavolo devo andare, ma no, io non posso passare, eh vabbè, questa, sorry, don't speak with children, minchiata, simpaticissimi in questo villaggio, un ponte, demmi due, dove sono, tesoro, village, eh, allora, ottimo, sono andato indietro, forse devo andare avanti, no, chiedo altro, ma avete detto nei commenti com'è, ah, questo, adult are not fun, e ho letto che mi avete suggerito anche come prendere la prima scatola, magari saprò voglia, ritornerò a prenderla, oh, ora posso entrare nelle case, sembra proprio i pokémon qua, dove portare i pokémon per, per farli sistemare, farli curare, i god, i kill, ah, è arrivata la tipa, ok, ci riposiamo, costo 10 gold, si, stavo nel gioco, bravissimo, caminetto, ok, ci siamo riposati, ora, c'era l'altra casa, se non sbaglio, qua sopra, andiamo a vedere, eccola qua, qui cosa c'era, c'era, niente, semplice casa, un altro tesoro, oltre월, vediamo, qua cos'è che posso andare qui sotto, Ma forse mi diceva Puoi parlare con le ragazze Ho letto male Forse è così Hai visto vuoto di me No, ho sbagliato Ma sì, entriamo, vediamo che è E questo? Per fare una strange seed Stanno insieme Ah sì, mangiamo Che cazzo? Sono diventato adulto? Che cacchio è? Ah, forse perché così adesso posso parlare con gli altri tizi Ah, c'ho un attacco nuovo Dai, sali Quindi ora posso parlare Ah, vedete Ok, ok Maybe something new there Ok Vediamo questo tizio Che vuole Decrisate come il nord A dangerous place Fantasma Un altro tesorino E taglie Non riesco a capire dove cacchio devo andare Ora parlo con questo Allora Fa pure il video C'è più il video C'è più il video C'è più il video C'è più il video Stai Grazie Mi diverterò un sacco Beh, allora devo andare per forza di qua Da qualche parte Perché lì il ponte Mi sa che torno indietro Penso Proviamo il ponte Se può andare avanti No, adesso non già Ecco Ho fatto una cazzata Va bene Dai Attacca Attacca Fai il brutto Dai Dacci dentro Ok Eh, vai Cento d'olio No, no Stai sui sentiero Eh, no Allora posso stare qua per forza Devo riuscire a sorpassare qua Cercando di capire come però Ma c'è l'acqua, cazzarola Da cavolo devo andare Allora, qui c'è il ponte Qui c'è sto robo Il tipo l'ha interpellato Questo Io vi ho detto Questa era la casa In cui non potevo entrare Là sotto sono andato La tipo l'ha interpellato Lui Ma che è? Niente Qua c'era una cassa Mi pare Ok Tipo lì Non mi dice niente Cioè mi dice Che era un po' Con le pipopaggia Mentre non posso passare Quindi dovrò trovare qualcosa Qui non c'è nient'altro È il ponte Eh, dove cavolo devo andare? Questa casa qua Entriamo No, non voglio dormire Che diavolo devo fare? Allora, allora Allora, allora Vediamo un po' Dove andare Qua c'era Lo shop Se non sbaglio Ah, ecco, ecco Ecco qua Vai Allora Longsword Copper armor Beh, io prenderei Io prenderei Rosewall Ok E poi anche Copper armor Ok Quindi ora vediamo se il tipo lì mi fa passare Ecco, ecco Forse cos'era Quindi era di qua Se non sbaglio il ponte Oh, è sbloccato Oh, finalmente ho capito Che cacchio bisognava fare Ora, ora, ora Ora, ora Devo andare qua Forse, vai Ecco, perfetto Che cacchio sono Ste cose Oh, oh, ma quanto picchiano Bella One shot Ora, ho la spada lunga Slank Bella, bella Ottimo Direi che è bella potenza E' questa spada Ma che è? Thank you for Salvati Ho salvato I need a crystal In the cave To save my Amp Va bene Ti aiuto Che ti do Di Enter a name Come la chiamo? Ma se Guarda Ho visto che è una donna Mi farà compagnia Cosa è cacchio? Ok La chiamo La mia ragazza Va Facciamo prima Non sto a pensare Un nome La, 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 la Uh Bra Down Perfetto E ora incontrerò sicuramente Qualc'altro bel mostro Qua dentro posso andare? Oh Ok Quindi adesso siamo in questa Che cacchio Ma vaffanbola Non ho fatto No 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 Si è scordata di chiedermi il mio nome Il mio nome E il mio nome Massimo E un Simone Anzi FNTSMN Mi sembra giusto Allora FNTSMN No Mortacci Erase Boom Perfetto Quindi adesso che abbiamo messo il nome Adesso siamo in questa Cadverna Piramide Da come era descritta Sulla mappa Spero che la serie Vi piaccia Quindi continuate a mettere mi piace A commentare E ci vediamo alla prossima puntata Ciao a tutti ragazzi